Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'alta pressione arretrerà di più ad ovest, riuscendo comunque a inglobare l'Italia, seppur in maniera più blanda. Nel contempo, correnti settentrionali scorreranno sul suo bordo orientale, attraversando tutta l'Italia da nord a sud, aumentando i contrasti termici e riportando l'instabilità sui rilievi appennemici nelle zone interne del centro-sud. Le temperature risulteranno di qualche grado in calo, su valori più consoni alle medie del periodo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 14 aprile. Cielo sereno al mattino ovunque, con graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio sui settori interni della Puglia e della Basilicata, ma senza precipitazioni, se non qualche temporale di calore isolato sull'Apenino Lucano. Temperature stazionarie o in lieve aumento le massime, venti deboli variabili, mari da calmi a poco mossi. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Matteo Nuziello, che ci regala questo fantastico panorama notturno da Monte Sant'Angelo verso il Golfo di Manfredonia. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle email che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.